Musica Calculiamo ora il limite per X che tende a infinito di X più 10 tutto fratto X e tutto elevato alla X mezzi allora se andiamo a trovare se andiamo a sostituire la nostra X nell'espressione vediamo che c'è infinito fratto infinito elevato a infinito mezzi insomma un'espressione abbastanza complessa però possiamo vedere che questo limite qua è simile a un limite notevole ossia il limite per X che tende a infinito di 1 più 1 fratto X elevato alla X che è uguale a E per chi non si ricorda i limiti notevoli può guardare il mio video sul canale Matematica 4.0 questo limite non solo vale per la X ma vale anche per qualsiasi funzione della X quindi se io faccio il limite per F di X che tende a infinito di 1 più 1 fratto F di X elevato alla F di X è uguale a E ora qual è la difficoltà nel nostro specifico caso è che noi non abbiamo un 1 più 1 fratto F di X e in particolare non abbiamo una F di X che è uguale al numeratore e all'esponente che è quello che dobbiamo cercare di ricavare per fare questo andiamo a fare un po' di calcoli ossia abbiamo intanto che possiamo dividere la nostra espressione quindi avremo X fratto X e sappiamo che uno stesso numero al numeratore e al denominatore si può semplificare e mi da 1 più 10 fratto X ma 10 fratto X io lo posso scrivere anche come 1 fratto X fratto 10 però ancora abbiamo un X fratto 10 che è diverso da X mezzi X fratto 10 ora l'avremo al numeratore ma è diverso da X mezzi che è l'esponente quindi dobbiamo ancora modificare qualcosa per ottenere la stessa quantità al numeratore e all'esponente allora in questo caso noi possiamo elevare modificare il nostro esponente moltiplicandolo e dividendolo per la stessa quantità perché sia diverso da 0 allora intanto vediamo qual è questa quantità dobbiamo fare in modo che X decimi sia uguale a X mezzi abbiamo che dobbiamo moltiplicare per la quantità incognita questa quantità incognita vediamo che il numeratore è lo stesso sempre X quindi quello che è diverso il denominatore come fa un 2 diventare un 10? semplice si moltiplica per 5 quindi questo numero incognito sarà un quinto moltiplicando X mezzi per un quinto otteniamo X decimi però noi sappiamo che non possiamo modificare la funzione come ci pare quindi se moltiplichiamo per un quinto dobbiamo anche dividere per un quinto ossia moltiplicare per 5 nel nostro caso e andando quindi a sostituire quello che ci siamo detti possiamo vedere che il limite diventa il limite per X che tende a infinito di 1 più X fratto 10 perché abbiamo detto che abbiamo diviso la somma quindi avevamo X fratto X che è la stessa quantità sia il numeratore che il denominatore quindi andiamo a simplificare più 10 fratto X che possiamo anche scrivere come 1 fratto X decimi tutto elevato a X alla seconda ora abbiamo trovato la nostra quantità per cui dobbiamo andare a moltiplicare e a dividere che è 5 quindi facciamo elevato sua volta per 5 quinti e sviluppando i calcoli un quinto lo possiamo portare internamente che diventa X decimi e quindi avremo la stessa quantità sia all'esponente che al numeratore che è esattamente quello che volevamo noi abbiamo la stessa quantità sia all'esponente che al numeratore quindi sappiamo che tutta questa quantità questo limite qui di 1 più 1 fratto X decimi elevato all'X decimi fa E E però ci rimane un 5 fuori quindi sarà una E elevata a 5 che è il risultato del nostro limite se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sulle nuove pubblicazioni il canale matematica 4.0 per qualsiasi dubbio o se volete mandarmi degli altri esercizi da risolvere potete scriverlo nei commenti oppure mandare una mail a dispensadimatica chiocciolagmail.com grazie